Ben trovati a tutti i telespettatori di Tele Liguria Sud per il nostro appuntamento con Mare Sicuro, la trasmissione televisiva in collaborazione con la Guardia Costiera della Spezia, dedicata alla sicurezza di diportisti, bagnanti e di tutti gli amanti del mare. Come di consueto cominciamo parlando delle attività che si svolgeranno in mare durante questo fine settimana. Ovviamente non possiamo aprire questo nostro appuntamento senza citare una delle manifestazioni più significative e caratteristiche dell'estate spezzina, il Palio del Golfo, quest'anno giunto alla sua 93esima edizione. Domenica 6 agosto, a partire dalle ore 17, come di consueto saranno effettuate delle gare remiere nel tratto di mare antistante la passeggiata Morin. Per questo motivo, già a partire da sabato 5 agosto, giorno in cui sarà posizionato il campo di gara, e fino al 7 agosto, giorno in cui sarà rimosso, è fatto obbligo a tutte le unità in transito di procedere con la massima cautela e alla velocità minima di governo, tenendosi a distanza di sicurezza dai perimetri dei campi di gara. Al termine delle gare, alle ore 22 e 30 circa, sarà effettuato uno spettacolo pirotecnico. Pertanto, dalle 20 e 30 a mezzanotte, nello specchio acqueo antistante la radice del Molo Italia, è interdetta la navigazione, lo stazionamento, la pesca e qualsiasi altra attività marittima, anche subacquea e strane allo spettacolo. È fatto comunque obbligo alle unità in transito nelle vicinanze di procedere con la massima cautela e di tenersi a distanza di sicurezza. Sempre domenica 6 agosto, dalle ore 12 alle ore 16, si svolgeranno delle regate veliche e la relativa posa in opera delle boe necessarie per la definizione del percorso di gara nello specchio acqueo antistante l'abitato di Monte Rosso al mare. Pertanto, è fatto obbligo a tutte le unità in transito di procedere con la massima cautela e di prestare particolare attenzione, tenendosi a distanza di sicurezza dai partecipanti alla regata. Passiamo ora al bollettino del mare, che si può ascoltare sul canale 68 del VHF. Nel Mar Ligure sono previsti venti tesi nei quadranti meridionali, in rinforzo, in vento forte, con mare agitato. Ed ora la parola al sottocapo di terza classe, Iacobiello Sara, che ci darà alcuni consigli di sicurezza. Con l'arrivo della stagione estiva, le nostre bellissime spiagge sono sempre più frequentate da bagnanti, perciò oggi vorremmo ricordarvi alcune regole e accorgimenti per vivere il mare in sicurezza. Prima di entrare in acqua, accertatevi delle vostre condizioni psicofisiche e, se non vi sentite al meglio, evitate di fare il bagno. Se siete stati esposti al sole a lungo, immergetevi gradualmente e, anche se siete provetti nuotatori, non allontanatevi troppo dalla spiaggia. Ricordate che la zona riservata alla balnazione è di 200 metri dalle spiagge e 100 metri dalle scogliere a picco sul mare. Pertanto, se decidete di oltrepassare tale limite, dovete segnalare la vostra presenza con una boa, con bandiera a sfondo rosso, con banda trasversale bianca. Prestate particolare attenzione ai materassini e agli altri gonfiabili perché ci si può trovare facilmente a largo per effetto della corrente, anche senza accorgersene. Vi ricordiamo che per qualsiasi informazione potete consultare il sito istituzionale della Guardia Costiera www.guardiacostiera.it e nella sezione dedicata alla Capitaneria di Porto della Spezia troverete tutte le ordinanze a carattere locale. Dalla Guardia Costiera per questo weekend è tutto. Arrivederci alla prossima settimana, sempre con Mare Sicuro.